Ben trovati al telegiornale regionale del Piemonte. Le bollette del telefono fisso e di internet dunque non devono essere calcolate sui 28 giorni. Così ha ribadito il legislatore dopo il pronunciamento dell'autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni. Ma gli operatori tardano ad adeguarsi, gli utenti piemontesi che hanno chiesto rimborsi non sono stati accontentati almeno per ora. Il servizio di Eri Garuti. Dopo l'Agicom anche il Parlamento si esprime contro le fatturazioni su 28 giorni. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al decreto fisco per vietare agli operatori di telefonia fissa, servizi internet e tv, di far pagare gli abbonamenti ogni 4 settimane anziché mensilmente. Esclusa la telefonia mobile e così pure le bollette di gas e luce perché calcolate a consumo. Ma quali sono gli sviluppi della vicenda nella nostra regione? Gli utenti in questo momento possono chiaramente presentare la domanda di rimborso al Corecom. Quello che cambia è che dovremo attendere dal momento stesso in cui verrà pubblicata la legge le compagnie telefoniche avranno 120 giorni per adeguarsi. Verrà offerto all'utente un rimborso forfettario di 50 euro più 1 euro al giorno per ogni giorno successivo alla data della pubblicazione della legge, nel caso in cui il contratto non venga trasformato in cadenza da 28 giorni a mensile. A rivolgersi al Corecom sono più spesso gli abitanti del torinese che quelli del resto della regione. Noi vogliamo ridurre questo divario. Cosa facciamo quindi? Abbiamo deciso di andare a fare comunicazione nelle province diverse da quelle di Torino. Abbiamo cominciato con Vercelli, siamo stati anche a Cuneo, siamo stati ad Alessandria e vogliamo sensibilizzare le istituzioni a far conoscere il servizio del Corecom che è gratuito. Grazie. Grazie. Grazie.